Buongiorno, iniziamo subito così, in maniera dirompente, con il nostro filetto di maiale perugino. Tre dita, dico tre dita, di sugna sopraffina. Signori, questo è il nostro filetto. E come dice Anna Oxa, dal filetto al barolo è tutto un attimo. Ed eccolo qua, profumato come il vino, sincero come il vino, il nostro brasato al barolo pronto per il forno. Ed eccoci qua, appena messo in forno il barolo, tagliamo subito il nostro fantastico volpettone. Stamattina nella versione classica, quella prosciutto cotta e provola, quella che piace a tutti. I got the world on a string, settin' on a rainbow, got the string around my finger. Oggi tra le tante cose, ritorna il nostro imbottino, cotto e fior di latte, tenerissimo. Life is a beautiful thing, as long as I hold the string. I'd be a silly so-and-so La foglia di limone è qui. Ed ecco l'impasto per il nostro colpettocino di bullo. Semplicissimo, gustosissimo. Signori, i nostri colpettocini sono anche in bullo. What a world Man, this is the life Hey now I am so in love No, 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 no. No, 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 no. Grazie a tutti.